Siamo nel Parco Nazionale Siamo nel Parco Nazionale dell'Aspromonte all'interno della foresta demaniale Valle Infernale. Il valore inestimabile di questa foresta è rappresentato innanzitutto dal fatto della sua collocazione geografica al limite della reale distribuzione di molte specie temperate tra cui il faggio e questo permetterà al sito seriale UNESCO, questo patrimonio dell'umanità riconosciuto all'ambito del criterio 9, di esprimere la conservazione su tutti gli spazi ecologici compreso quello dell'area mediterranea. In questo momento dei cambiamenti climatici si tratta di un processo molto importante perché qui noi potremo osservare la capacità che ha la foresta vedusta di mitigare il cambiamento climatico, ossia di rendere il riscaldamento meno importante dal punto di vista degli impatti ambientali e conservare allo stesso tempo una biodiversità unica come si può vedere in questo ambiente. Da quando nei primi anni 50 il corpo forestale dello Stato attraverso l'azienda di Stato Foreste Edemaniali ha acquisito questa foresta demaniale di grandissimo valore, qui la natura è sempre stata protetta. E oggi attraverso il raggruppamento Carabinieri per la biodiversità continuiamo questa intensa attività di protezione, di conservazione e di gestione di questo patrimonio che non è soltanto un patrimonio italiano, è un patrimonio europeo ma è un patrimonio di tutta l'umanità. Grazie a tutti! Grazie a tutti!